Tele spettatori di Telequattro, buongiorno, benvenuti all'anteprima del nostro telegiornale delle 13 e 20, quest'oggi siamo in compagnia di Anna Zecchini che è la Presidente dell'Associazione Sparpagliati per parlare del MUIA Baskers Festival che incomincia proprio oggi per chiudersi il 7 di luglio, intanto grazie per essere tornata nei nostri studi, è l'ottava edizione del festival, prima però volevo chiedere qualche cosa dell'Associazione proprio, che cosa è l'Associazione Sparpagliati? Intanto grazie a lei che ci accogliete nuovamente qui, Sparpagliati è un'associazione di promozione sociale, quindi un'associazione che è composta da soci e volontari, siamo tutti volontari, quindi la base è la voglia di fare qualcosa per il luogo in cui si abita, per il territorio, quindi cittadinanza attiva che in questo caso per il MUIA Baskers sviluppiamo attraverso la cultura, il circo contemporaneo, portare una cultura accessibile a tutti sul territorio. Quindi Sparpagliati è composta da una quindicina di soci che sono impegnati tutto l'anno nell'organizzazione di eventi, nella progettazione, nella preparazione del festival e volontari, amici volontari che si sono affezionati al circolo che danno una mano in varie mansioni durante il festival per l'organizzazione, per portare la magia a Moggia. Ottava edizione, noi dicevamo, questa è la, adesso faccio vedere la locandina della manifestazione, insomma ottava edizione significa già qualche cosa, significa che pian piano il festival si sta depositando, non nel sumugia. Sì, l'ottava edizione, diciamo che il festival è cresciuto nel tempo, è cresciuto grazie a uno sviluppo di collaborazioni sul territorio, con associazioni, con il sviluppo della progettazione con le istituzioni, sviluppo anche dei partenariati, delle collaborazioni proprio del settore del mondo, del circo contemporaneo ovviamente, realtà regionali e anche nazionali, siamo riconosciuti dal Ministero della Cultura come circo contemporaneo, festival di circo contemporaneo non competitivo primo istanze, quindi insomma i nuovi entrati nel mondo del MIC, assieme ad altri ovviamente, ma insomma è una nostra soddisfazione e il festival è cresciuto appunto grazie a queste collaborazioni che si sono saldate nel tempo, anche con altre realtà di circo regionali e transnazionali in Slovenia. Come potremmo definire il circo contemporaneo? Allora il circo contemporaneo è una forma d'arte che mescola varie discipline, varie ricerche artistiche e la creatività, nasce nel ventesimo secolo per dare uno sbocco ad artisti, giovani artisti che non vogliono portare avanti il circo tradizionale ma portano avanti il circo contemporaneo con nuovi linguaggi, nuove ricerche artistiche e creatività, quindi non ci sono animali, quindi la differenza col circo classico sono gli artisti e non animali che sono al centro del circo contemporaneo e quindi una creatività e interazione con varie discipline, ricerca artistica. E quasi sempre, se non mi sbaglio, c'è l'elemento di acrobazia, giocoleria che può ricordare determinati momenti del circo classico, ma direi che nella maggior parte dei casi poi sono spettacoli di grande poesia, cioè c'è anche questo elemento che caratterizza, cioè non è solo la bravura del numero stesso, nella maggior parte dei casi i numeri sono inseriti in un contesto più poetico. Sì, certamente c'è la poesia, ma diciamo che la base è una contaminazione continua e creativa, contaminazione tra il teatro, il circo, la comicità, ma anche la danza e la musica, quindi è un'interazione, una contaminazione continua di linguaggi artistici, ci sono certamente le acrobazie, ci sono i racconti, la drammaturgia, ogni spettacolo racconta una storia a modo suo, secondo la volontà e le intenzioni degli artisti che fanno parte della compagnia e mescolano le acrobazie, la giocoleria, ma anche la narrazione, quindi è una storia che viene portata al pubblico, che viene trasmessa al pubblico, anche interagendo assieme al pubblico che viene spesso coinvolto negli spettacoli. Dove si svolge? Allora, si svolge a Muggia, inizia quindi oggi, 3 luglio fino al 7 luglio domenica, i primi giorni ci trovate in piazzale Alto Adriatico, all'ingresso di Muggia, con lo chapitò di circo, del circo Madera, qui nel tendone di circo e altri spettacoli, spettacoli anche per i bambini, spazio giochi per i bambini, per poi dopo andare a diffonderci nel centro città, a Muggia, nella piazza Le Caliterna, lungo il mare, piazza Marconi, Salle Mar e Biblioteca, quindi sono le piazze principali un po' disseminate, spalpagliate nella città di Muggia. Ci sono spettacoli concepiti, mettiamola così, anche per spazi differenti? Esatto, gli spettacoli hanno questa caratteristica anche di adeguarsi al contesto in cui si inseriscono. Prendiamo l'esempio degli spettacoli dei giovani artisti, la collaborazione che portiamo avanti da diversi anni con la scuola di circo Flick di Torino, quindi una ricerca che viene fatta con il direttore artistico Riccardo Strano e assieme ai giovani artisti che fanno la formazione a Torino, producono uno spettacolo, due spettacoli in questo caso quest'anno e che viene poi inserito nel contesto specifico di Muggia. Tra l'altro poi lo stesso, anche Mugia, per me è difficile sempre pronunciare, Mugia Baskers produce uno spettacolo, no? Sì, il Mugia Baskers Festival produce, Spalpagliate produce assieme a Coldata Fork, una compagnia di circo nazionale, da diversi anni portiamo avanti questa coproduzione, ogni anno è una coproduzione diversa, ma in questo caso portiamo un nostro prodotto che è nato nel Mugia Basker Fest che poi si è sviluppato con Coldata Fork e dei giovani artisti che hanno fatto una coproduzione qualche anno fa su un tema specifico e quest'anno arrivano con il loro spettacolo Swell Circonda e ci sveleranno appunto il segreto della loro ricerca artistica di questi anni a cui abbiamo contribuito. Quando avete cominciato otto anni fa, che cosa vi aveva convinto ad incominciare questa avventura? Credo la passione di portare una novità a Muggia, l'idea di portare qualcosa di culturale ma che crei anche un'occasione di aggregazione sociale, quindi farsi ritrovare nella città, vivere gli spazi pubblici che magari si vivono sicuramente in un determinato modo al quotidiano, ma che poi con l'occasione del festival vengono vissuti in modo diverso, quindi la volontà di creare qualcosa di nuovo, il circo contemporaneo, un festival di circo contemporaneo a Muggia non esisteva all'epoca, quindi è stata una sfida che abbiamo voluto portare avanti e che continuiamo a portare avanti. Era una scommessa otto anni fa? Era una scommessa, rimane tuttora una scommessa perché di un anno a un anno il programma cambia, il pubblico cambia e quindi insomma è una sfida ogni anno per tutti noi. E Muggia si presta a questo tipo, immagino per come è strutturata, per come è fatta, per quello che ha a disposizione? Sì, Muggia si presta molto come palcoscenico all'aperto, insomma le varie piazze che sono con un'architettura specifica che accoglie gli spettacoli e che rafforzano anche la magia portata dagli artisti. Allora sabato e domenica sono le giornate dove c'è il maggior numero di appuntamenti, sono appuntamenti che oggi iniziano alle ore 18, domani alle 17.30, venerdì già alle 16, sabato addirittura dalle 15.30 e domenica ancora dalle 17.00. Che cosa è questa roba che ho letto qua? Questa roba chiedo scusa, non dovrei dire così, ma la festa conclusiva c'è scritto i Jennifers, i classici più classici suonati con attitudine punk e mentalità da officina. Che cosa è? Allora le lascio la curiosità perché insomma è l'effetto a sorpresa per chiudere il festival, sono degli artisti che fanno parte del programma di quest'anno che concluderanno il festival con della musica a modo loro, ma le lascio il suspense. Deve essere curiosissimo, mi curiosisce i classici più classici, attitudine punk e mentalità da officina. Questo è appunto lo spettacolo di chiusura che si terrà in piazzale Alto Adriatico a partire dalle 22.30 di domenica 7 luglio. Ci sono anche due, c'è un appuntamento, sabato c'è la visita anche al Castello di Muggia. La visita al Castello di Muggia è una collaborazione che portiamo avanti da 3-4 anni, quindi il Castello di Muggia i proprietari ci dedicano un attimo del loro tempo, aprono il castello ad hoc durante il festival, quindi la visita è su prenotazione, ma è l'occasione appunto di scoprire un patrimonio storico di Muggia e poi dopo arrivare in piazza e vedere gli spettacoli. Gli altri spettacoli che sono importanti sicuramente da non perdere, io direi il Circo Madera e Trocos Lucas che sono due compagnie, una è spagnola, l'altra viene dal Piemonte, ma come dicevo sono la creazione artistica che li unisce. Sono su prenotazioni i spettacoli in piazzale Alto Adriatico, si possono anche prendere i biglietti sul posto, quindi o online o sul posto e diceva gli orari iniziano presto il venerdì e il sabato alle 16 alle 15.30 perché ci sono dei laboratori per i bambini che vengono fatti al Circolo della Vela, presso la palestra del Circolo della Vela e quindi iniziano un po' prima in modo che dopo si possono vedere gli spettacoli. Alcuni degli appuntamenti sono a pagamento, ma insomma il costo è veramente minimo, si può anche dire e nella brochure sono anche indicati appunto quelli dove c'è il simbolo del biglietto, significa che sono a pagamento. Allora io direi che tutto quanto appunto per chi volesse approfondire un attimo di più gli appuntamenti, li trova sulla brochure, bisogna andare armati semplicemente di fantasia, basta quello? Basta quello, voglia di divertirsi, di vedere cose nuove, di scoprire spettacoli nuovi e avere voglia di venire fino a Muzza. Alcuni tornano? Alcuni artisti tornano, non quest'anno, a parte gli artisti che appunto gli artisti che fanno parte della compagnia Circonda, che erano dei giovani artisti che sono venuti già qualche anno fa, che adesso hanno la loro compagnia e quindi siamo molto felici di averli con noi. Allora io ringrazio Anna Zecchini che è la Presidente dell'Associazione Sparpagliati per essere stata con noi, vi ricordo gli appuntamenti con il Mujabaskers Festival dal 3, quindi da oggi fino al domenica 7 luglio, poi immagino che anche l'Associazione ha un suo sito dove si può conoscere anche che cosa fate quando non fate il Mujabaskers Festival. Sì, il nostro sito è collegato alla Mujabaskers, Mujabaskersenza la S.com, in cui ci sono tutte le informazioni del festival ovviamente e altre attività e collaborazioni che svolgiamo. Abbiamo anche la pagina Facebook e Instagram e quindi sviluppiamo anche le informazioni tramite i social. Grazie, buon lavoro. Grazie mille a voi, vi aspettiamo. Grazie, grazie. Adesso l'appuntamento con il telegiornale delle 13 e 20, subito dopo la pubblicità. Teleespettatori di Telequattro, buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre subito con la cronaca. Quattro auto incendiate in pochi giorni fra l'Istituto Galbani e via di Campanelle. Stessa sorte per alcuni bottini dell'immondizia, alcuni residenti della zona hanno detto di aver udito delle esplosioni. La Polizia di Stato indaga e caccia al piromane. Auto bruciate nella notte, siamo in via di Campanelle, l'episodio è successo circa le tre, è intervenuta la Polizia di Stato, infatti la squadra volante sta indagando sull'episodio. Ovviamente sono intervenuti i pompieri per spegnere le fiamme. Guardate che disastro, un'auto completamente bruciata, rimane solamente la carcassa. Qui i nastri dei pompieri a delimitare l'area dell'incendio. Ma se ci spostiamo poco più avanti, tra l'altro presenti anche i figli, i parenti di uno dei proprietari dell'auto che stanno controllando i danni e qui vedete gli altri nastri a delimitare l'area dell'incendio di Vigia del Fuoco e la seconda auto completamente bruciata e adesso le persone hanno paura che ci sia un piromane che gira proprio in questa zona. È caccia al responsabile o ai responsabili che hanno dato fuoco le due auto parcheggiate all'autostrada, la pista degli investigatori e l'incendio doloso, anche se tutte le ipotesi rimangono al vaglio. Saranno le immagini di videosorveglianza delle telecamere, poche peraltro quelle presenti in zona, che potrebbero fornire elementi decisivi all'indagine. L'azione di un piromane, una bravata, la gente del quartiere ha paura perché questo non è il primo episodio. Altre due vetture hanno preso fuoco pochi giorni fa, stessa sorte per alcuni bottini dell'immondizia e tra i residenti c'è chi ha udito esplosioni nella notte per entrambi gli episodi. Ma spostandoci proprio più su all'Istituto Galvani, ecco cosa troviamo. Altre carcasse di auto bruciate, un vecchio camper completamente mangiato dalle fiamme. A dare la notizia delle auto incendiate in via Campanella è proprio la proprietaria dell'Apolo che ha contattato stamattina la trasmissione Sveglia Trieste. Alle 5 sono venuta a suonare la polizia a casa nostra e ci hanno dato la felice notizia. Hanno preso la nostra, hanno saltato due macchine e hanno incendiato la quarta. So che tanti hanno sentito un boato forte l'altra sera la del Galvani e volevo aggiungere che una di quelle tre macchine è comunque di un amico e quindi se qualcuno ha visto qualcosa anche venerdì notte, se può contattarci su Facebook o su Instagram o non lo so, in qualche modo. La compagna voleva ucciderlo, la procura ne è convinta. Fra poche ore la donna slovena, indagata per tentato omicidio, sarà sentita dal GIP. E' quanto emerge dall'indagine dei carabinieri di Aurisina. Il fatto è avvenuto domenica scorsa. Un 45enne era precipitato dal balcone della sua abitazione in via dei Papaveri. 45enne è precipitato dal balcone di casa o piccina. Si indaga per tentato omicidio. E' arrivata la conferma ufficiale. Nessun incidente, ma la volontà di uccidere. La procura è convinta che la responsabilità sia tutta della compagna dell'uomo che si trova ancora ricoverato all'ospedale di Cattinara dopo quel volo di 6 metri. Le investigazioni sono affidate ai carabinieri di Aurisina, intervenuti domenica in via dei Papaveri 20 e coordinate dal pubblico ministero Maddalena Kerja. L'indagata, la donna slovena, è in stato di fermo e si trova in carcere. Nelle prossime ore verrà sentita dal giudice per le indagini preliminari. Urla litigi e aggressioni, anche con l'utilizzo di un coltello. Ecco cosa subiva il 45enne dalla sua compagna, dipendente di una casa di riposo di Trieste. I vicini di casa, sentiti da Telequattro, hanno tutti confermato la situazione tutt'altro che idilliaca della coppia. Troppi gli episodi che hanno generato paura tra gli stessi residenti del quartiere. Diverse le visite dei carabinieri per liti domestiche nei mesi scorsi. Quella domenica, dopo essere precipitato dal balcone, il 45enne era rimasto semicosciente a terra nel giardinetto condominiale fino all'arrivo dei soccorsi. Poi era stato intubato e adagiato in barella per essere trasferito nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Cattinara. Come anticipato già ieri sera, le sue condizioni sono in miglioramento. Andiamo adesso a San Giusto, dove qualche giorno fa è stata danneggiata parte della struttura del parco giochi di Via della Rimembranza. Sono stati strappati dei tappetini e staccati i cassonetti per la raccolta di indumenti. Magari è poca cosa rispetto ad episodi consimili verificatisi in città di recente, certo però che viene da chiedersi quanto fastidio desse la copertura di una zona dell'area giochi del parco della Rimembranza, divelta e strappata nei giorni scorsi. Per fortuna l'autore o gli autori di un gesto che prima di tutto è sciocco e puerile, non si sono dedicati ai giochi per bambini che pure sul posto sono presenti. Particolare ancora più fastidioso ed altrettanto stupido, se non ci si voglia vedere chissà quale forma di contestazione, sono stati divelti anche i cassonetti gialli che vengono utilizzati per la raccolta di indumenti da destinare alle persone meno fortunate, spariti nella notte fra domenica e lunedì. Spazio temporale al quale con tutta probabilità risalgono anche i danneggiamenti ai tappetini. Al momento due sono le ipotesi fra i frequentatori della zona, che si sia trattato di una semplice ancor che squalli da bravata o che il tutto sia stato opera di qualcuno che abbia esagerato con l'alcol. Allora quest'oggi, come sapete, si inaugura la settimana sociale dei cattolici in Italia. Telequattro seguirà la cerimonia di inaugurazione con una diretta straordinaria a partire dalle 16. La cerimonia di inaugurazione non si svolge come previsto in Piazza Unità per possibili complicazioni per quanto riguarda le condizioni meteo, bensì al centro congressi di Porto Vivo che è un po' il quartier generale della manifestazione. Quindi vi ricordo l'appuntamento oggi dalle 16 per seguire la cerimonia di apertura. c'è il Presidente della Repubblica Mattarella, poi ricordatevi anche l'appuntamento di domenica 7 luglio, già alle 7, con la visita di Papa Francesco e la messa in Piazza Unità. Dovremmo credo essere collegati con la sala operativa della Polizia Locale, c'è il Commissario De Grassi. Buongiorno Commissario. Sì, buongiorno a tutti gli ospettatori. Ne avete già parlato, credo, non sono riuscito a seguire il notiziario in diretta, ma la visita è stata modificata. Sì, sì, abbiamo detto proprio adesso. Ecco, allora è previsto l'arrivo del Presidente della Repubblica, non in Piazza Unità, ma all'interno del Portovecchio, nel Centro Congressi, perciò le rive non verranno chiuse e la viabilità ordinaria rimarrà invariata. Ovviamente ci potranno essere dei ralentamenti all'arrivo del corteo e il presidenziale fuoriuscita, ma le rive rimangono aperte. Invece verranno le rive, come ho già riferito questa mattina. Per il resto della giornata non abbiamo altre particolari cose in agenda, la mattinata è stata ovviamente movimentata per questi eventi che si smoggeranno in giornata, numerose telefonate anche per notizie, per curiosità e se no anche altrettante per viabilità, spostamento a cassonetti e quant'altro. Speriamo che vada tutto bene e io al momento non avrei altro da dirvi, vi rimanderei la linea. Grazie Commissario De Grazi, buona giornata e buon lavoro. Buona giornata e buon lavoro anche voi. Dovremmo avere adesso un servizio realizzato in regione dove è stata presentata una possibilità che riguarda la previsione dei temporali. Vado sul generico, sentiamo quello che ci racconta Laura Bucarella. Un nuovo servizio sviluppato dall'ARPA del Friuli Venezia Giulia per il rilevamento dei temporali in atto. Il sistema di rilevamento prevede l'incrocio di informazioni in tempo reale del radar meteorologico e della rete di rilevamento dei fulmini. Una volta rilevati i temporali, ne viene stimata la possibile direzione di propagazione nei 45 minuti successivi, sulla base della traiettoria da essi seguita nei 30 minuti precedenti. È un nuovo servizio presentato oggi dall'Agenzia regionale per l'ambiente. È un nuovo servizio di ARPA che nel posizione di 25 anni amplia la propria offerta non solo di previsioni ma anche di vicinanza con la cittadinanza. In questo caso avremo la possibilità di avere 45 minuti prima, collegandoci ovviamente con il sito di ARPA, le previsioni dei temporali che entro 45 minuti potrebbero transitare nella zona in cui uno si trova. Ma come funziona il servizio? L'utente interessato ad avere informazioni sui temporali attivi nella propria zona deve accedere alla pagina del sito ARPA Friuli Venezia Giulia dedicato al meteo ed entrare nella sezione vicino a te. Nel caso in cui il dispositivo dell'utente venga geolocalizzato in un comune sul quale è previsto passare un temporale entro 45 minuti, allora comparirà un banner giallo sulla parte alta della pagina web con l'indicazione possibile temporale. Quindi un servizio utile, penso a chi fa una gita in montagna piuttosto che un'uscita in barca, anche se quest'ultima magari ci vuole un po' più di attenzione, un po' di previsioni diverse, però voglio dire anche al neofita che vuole fare una semplice scampagnata potrà avere la possibilità di vedere nel prossimo tre quarti d'ora qual è la possibilità che piova o meno. Un bel servizio nuovo e innovativo parte da oggi. Fino al 7 luglio a Miramare il Teatro Stabile propone i segreti del Giardino dell'Arciduca, uno degli spettacoli appositamente concepiti per gli spazi verdi del parco. C'è già attesa per Green Shakespeare e per i discorsi amorosi che chiuderanno verso la fine del mese la mini stagione. Gli appuntamenti estivi del Teatro Stabile e della Friuli Venezia Giulia al Castello di Miramare sono entrati nel vivo. Dopo i concerti al tramonto all'alba dello scorso fine settimana realizzati in collaborazione con il Teatro Verdi, come già accaduto lo scorso anno, il primo dei quali il consueto melologo ha visto protagonista Sergio Rubini, tocca ora gli spettacoli appositamente concepiti per gli spazi del parco. Fino al 7 luglio con inizio alle 19.30 torna l'appuntamento con i segreti dei Giardini dell'Arciduca, un testo scritto e diretto da Paola Bonesi da un'idea della direttrice di Miramare Andreina Contessa. Andrea Germani, Esther Galazzi, Marco Maria Casazza e Maria Grazia Plos, assieme a Jacopo Morra, ripercorreranno per certi versi la storia del Giardino di Miramare recitando negli stessi spazi al centro della loro narrazione, al di fuori della comfort zone di un teatro classico, provando per certi versi la stessa fascinazione degli spettatori che li seguono nei vari luoghi verdi di Miramare. Lavorare facendo scegliere a Zeus, a Dio, al vento, alla pioggia, al sole, se quella sera si fa spettacolo o no è interessante perché si rimane sempre freschi e vivi sul pezzo e poi è interessante perché sei parte di uno spettacolo molto più grande e qua a Miramare lo spettacolo è meraviglioso. Luoghi verdi di Miramare che sono al centro di Green Shakespeare dal 9 al 14 luglio, sempre con inizio alle 19.30. Le magie di Shakespeare, nelle parole scelte da Laura Pelaschiare e Paolo Quazzoli, docenti dell'Università di Trieste, che hanno curato la dramaturgia e i nostri attori che ci incantano con le immagini di Shakespeare dedicate alla natura, dedicate ai tormenti d'amore. Shakespeare guardava alla natura non solo come ad una madre benigna che oggi è necessario proteggere. Per il bardo la natura era anche una matrigna terribile e il riferimento al colore verde e il green del titolo può incarnare l'amore e la rinascita ma anche ombre minacciose ed ossessioni. Chiude la rassegna dal 20 al 24 luglio con inizio alle ore 20, discorsi amorosi da ascoltare e leggere al tramonto. Il protagonista Stefania Rocca, affiancata da cinque compagni di viaggio differenti per ogni serata, agli spettatori sarà proposto un itinerario fra le più belle parole d'amore mai scritte, tratte dai pistolari celebri. Adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità, rimanete con noi, abbiamo ancora altri servizi, quando ritorneremo. Rientriamo in studio, ieri è stato presentato a Opicina l'armamento del distretto numero 4 della Polizia Locale, vediamo il servizio. Procede la roadmap per la graduale adozione dell'arma da parte della Polizia Locale, il quarto distretto di Opicina è il primo dei quattro territoriali ad essere armato, la struttura con nove operatori gestisce un territorio ampio, Basovizza, Santa Croce, Gropada e Prosecco, ma si occupa anche di Barcola, Gretta, Colonia e Scorcola. Finora i nuclei armati erano solo quelli specialistici. L'armamento della Polizia Locale è iniziato più o meno un anno fa, il primo step è stato armare i nuclei specialistici, quindi dalla Polizia Ambientale alla Polizia Edilizia, il Nucleo Interventi Speciali e tutti gli altri e a partire da giugno abbiamo armato anche il quarto distretto. È stato molto importante questo passaggio per noi ma anche per la cittadinanza, recenti fatti, avvenimenti di cronaca ci hanno spinto a scegliere questo come primo distretto su cui concentrare l'armamento e l'abbiamo fatto ovviamente in un'ottica di un miglior presidio naturalmente del territorio. Il quarto distretto è un presidio territoriale abbastanza autonomo e per questo motivo è stato scelto come primo distretto a essere armato, ha detto il comandante della Polizia Locale Walter Milocchi, ricordando che proprio per la sua collocazione la struttura, da poco guidata dal Vice Commissario Fabio Sgambati, ha preso parte a un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia sui transiti irregolari di migranti sull'Altipiano. Ricordo a tutti che i distretti sono il primo punto di riferimento della cittadinanza e quindi invito tutti i cittadini a contattare i distretti e a rivolgersi a loro per ogni tipo di segnalazione o di suggerimento. Completato il restauro, il Rotary ha riconsegnato al Comune il monumento a Giuseppe Verdi che si trova in piazza San Giovanni, la cerimonia, vediamo. Il Rotary Club Trieste ha inteso celebrare il centenario della propria fondazione restaurando con il contributo della fondazione Casali, Officine Vidali e Ricesi Holding il monumento a Giuseppe Verdi di piazza San Giovanni, monumento che in vero con il Rotary ha un rapporto speciale già che nel 1996 fu una rotariana, Fulvia Costantinides, a finanziare il precedente intervento di riqualificazione. Stamani il monumento è stato riconsegnato nelle mani del sindaco di piazza con una cerimonia che ha visto la presenza del past president del Rotary, Gaia Furran e dell'attuale presidente Alessandro Zammarchi, nonché dell'assessore regionale Pierpaolo Roberti. È un elemento di attenzione forte per quanto riguarda il partimone artistico presente storico, artistico presente sul nostro territorio ma soprattutto è la dimostrazione di quanto alcune associazioni, alcuni enti presenti sul nostro territorio siano sensibili e siano disponibili verso le amministrazioni pubbliche nel dare la loro mano e il loro contributo per garantire quel patrimonio. In questo caso i Rotary prima di tutto ma assieme ad altre entità, penso alla fondazione Casali e ancora altre entità, soggetti privati del territorio. Il monumento, primo in Italia in memoria di Giuseppe Verdi, venne inaugurato il 27 gennaio del 1906 a 5 anni dalla scomparsa del compositore, opera dello scultore Alessandro Laforet. Il 24 maggio del 1915, a seguito della dichiarazione di guerra all'Austria, l'opera venne ritenuta un simbolo di italianità e distrutta dagli stessi austriaci. Una nuova statua fu ricostruita, fusa con il bronzo ricavato anche dai cannoni trafugati in guerra agli austriaci e riposizionata proprio il 24 maggio del 1926. Con Piazza Unità blindata il lavoro crolla, le persone vogliono evitare gli ostacoli. Ha parlato così con noi il gestore del bar Piazza Grande, facendo riferimento ai grandi eventi che se da un lato portano lustro e visibilità a Trieste, dall'altro impediscono di lavorare al meglio. Ma vediamo la intervista. Ci prepariamo una settimana, anzi è già iniziata una settimana importante e il lavoro di voi gestori, baristi, ristoratori è tanto. Per esempio parte del De Orvi ne è ritirata e da domani mi pare, giusto? Da domani sì, tutta la settimana dobbiamo togliere tavoli, sedie e tutto quanto. Anche per il G7 abbiamo avuto problemi perché c'erano tante restrizioni. Difatti quei giorni là non abbiamo lavorato niente, poco niente. Adesso penso anche con queste restrizioni sarà un po' grave lavorare. Ecco, questo volevo proprio capire, hai anticipato la mia domanda, cioè come si lavora in questo contesto? Perché uno pensa, tanta gente in città, il turismo è sempre tanto, ma obiettivamente quindi con limitazioni il cliente arriva anche con più difficoltà? Esatto, esatto. Il cliente cerca di deviare dove ci sono dei problemi, ostacoli. Noi abbiamo purtroppo 50 metri quadri e lavoriamo con l'esterno, se non lavoriamo con l'esterno non facciamo niente, purtroppo è così. Anche questi concerti, l'arrivo del Papa, hanno fatto Portovecchio, sarebbe anche di usufruire il Portovecchio, invece che sempre in piazza unità che è sotto pressione, secondo me. Domenica sarà tantissima gente qua in effetti. Domenica sarà tanta gente, sì, vedremo come comportarci qua con queste restrizioni qua, vediamo. E al di là di questi eventi, il turismo in generale come va? Voi siete in un punto nevralgico importantissimo, avete il bar proprio sulla piazza? Sì, sì, sì. No, ma il turista c'è, le navi aiutano tanto, ci sono sempre più turisti, sì, 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 si lavora, dai, diciamo. Al di là di questi grandi eventi poi il bilancio estivo è sempre… Con questi eventi va a picco il lavoro e purtroppo questo lavoro bisogna andare avanti e fare quello che si può. Allora, una mostra è stata inaugurata ieri pomeriggio alla Sala Fini del Magazzino 26, organizzata dall'Associazione Studium Fidei, essa è collegata in qualche modo alla Settimana Sociale dei Cattolici in Italia. L'Associazione Culturale Studium Fidei ha inaugurato questa sera alla Sala Leonor Fini del Magazzino 26 Artistiche Riflessioni Spirituali, una mostra che si potrà visitare ogni giorno fino al 7 luglio dalle 16 alle 18.30. L'iniziativa si inserisce fra quelle collaterali alla Settimana Sociale dei Cattolici in Italia. Saranno esposte opere di autori che a Trieste leggono il sacro e ne presentano la bellezza per offrire una riflessione su un'antropologia aperta al mistero. Quindi noi vogliamo presentare quello che è l'aspetto interiore e spirituale della cultura europea, in modo particolare anche della cultura triestina. Questa sala sarà anche, diciamo così, adoperata dai convegnisti e saranno appunto accompagnati dalla bellezza dell'arte dei nostri artisti triestini. Diceva Sant'Agostino che ciò che ci salverà sarà appunto la bellezza. Questo è l'intento che noi vogliamo offrire con questa presenza, messaggio. Alla base è il ragionamento di Monsignor Mannati, quell'appello alla partecipazione fatto proprio dalla settimana. Da oltre dieci anni ha spiegato il curatore della mostra Franco Rosso, la diocesi triestina, ha avviato un dialogo con il mondo artistico triestino e coinvolgendo varie espressività creative ha cercato di valorizzare il ruolo della cultura nei vari linguaggi come momento di riflessione sui grandi interrogativi legati all'essere e all'esistenza. Annualmente, ispirandosi al messaggio del Vescovo in occasione della Quaresima, gli artisti invitati hanno interpretato creativamente la riflessione suggerita e l'esito si traduce appunto nell'organizzazione di un evento poliespressivo tradizionalmente ospitato in sala Xenia. Artistica e riflessioni spirituali ripropone una sintesi parziale delle opere prodotte negli anni con l'auspicio che attraverso pittura, scultura, fotografia e installazioni si possa stimolare i fruitori in una riflessione che faccia riconoscere che in un mondo relativista, individualista e consumista, qual è quello in cui stiamo vivendo, la fede, solo la fede, e ricorda che ancora oggi l'uomo nasce, matura e vive in un orizzonte di parole e di senso che lo precede e lo fonda prima di ogni sua decisione. L'Associazione Studium Fidei, ha aggiunto poi il Presidente Monsignor Rettore Mannatti, intende sensibilizzare come la partecipazione porta con sé anche appunto un percorso di bellezza. Per quanto riguarda la settimana sociale dei cattolici in Italia, giunta alla cinquantesima edizione, ci sono state file questa mattina davanti alla Curia e all'Infopoint allestite in Piazza Unità. Negli hotel, come abbiamo riferito già ieri, stanno arrivando i pellegrini che si fermeranno fino a domenica nel centro cittadino e in fase di conclusione la posa delle transenne e gli ultimi allestimenti del palco. Quindi vi ricordo oggi pomeriggio l'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel primo giorno dell'appuntamento che culminerà domenica, appuntamento appunto, con la visita di Papa Francesco. Code davanti alla Curia dove persone di tutte le età, triestine ma anche non, sono in attesa di ritirare il pass per assistere alla messa di domenica, un accredito richiesto secondo specifiche disposizioni emesse nei giorni scorsi. Cittadini e turisti in fila anche davanti all'ufficio informazioni allestito per l'occasione in Piazza Unità per fornire indicazioni al pubblico sugli eventi in programma in tanti alberghi del centro e non solo, sono arrivati da stamattina i fedeli che appunto si fermeranno fino a domenica. Vi ricordo che noi ci vediamo alle 16 per seguire in diretta la cerimonia di apertura della cinquantesima edizione della Settimana Sociale dei Cattolici in Italia, cerimonia che avrebbe dovuto tenersi in Piazza Unità ma che è stata spostata al centro congressi del Portovecchio, centro congressi del Portovecchio che è la base operativa, il quartier generale delle discussioni più importanti collegate appunto all'evento, evento che è anche diffuso perché in alcune zone della città sorgono delle piazze tematiche dove gli argomenti al centro della Settimana Sociale dei Cattolici in Italia vengono a loro volta sviscerati. Ci vediamo dunque alle ore 16 per l'inaugurazione della cinquantesima edizione delle Settimane Sociali dei Cattolici in Italia. A più tardi, buon pomeriggio.